ahhh 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 mica mai è capitato un paziente così ora andiamo avanti con la visita allora che bucuccia strana che hai dopo la puntura cosa succede? uno che si chiude uno si apre ma che dura che sei la cosa è la cosa è ah scusi ma che sei tu no controlliamo per bene gli occhi mamma mia che paura che paura vedi quei occhi ahhh che occhi 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 io controllerei il piede se si alza battendolo e vediamo vediamo così così che non ha che ancora un punto addormentata no ancora un punto addormentata che vediamo allora vediamo cosa questo piede si alza senza batterlo? come può essere che si batta senza batterlo? si alza senza batterlo eh questo funziona questo non funziona tanto guardate 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 questa medicina questa medicina devo comprarla perché è poca serve per fargli passare questo effetto placebo questo effetto placebo fa tam voilà no, 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 no ci vada aiuto aiuto tuttore ti fanni ci ha fatto ci ha fatto ci ha fatto dai 8 aiuto dai 8 si 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 evviva 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 mi hai paralizzato non riesco a muovermi evviva ancora per 10 minuti no per un minuto cosa mi hai fatto non riesco a muovermi cosa mi hai fatto vai ecco fatto di nuovo paralizzato ecco questo 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 io scappo da questo questo qua è pazza è pazza ti paralizzo ancora 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 e ti faccio aprire la medicina così così non ti alzi così non ti alzi ecco fatto così non ti alzi non ti puoi alzare non ti puoi alzare non riesco più a muovermi ma cosa mi hai messo dentro ma cosa hai fatto mi scoglio di a più b tutte e tre insieme ma mi hai fatto mi scoglio di a più b più g forse non esiste l'antidoto l'antidoto cosa succede se faccio tutte e tre insieme tre no una tutte e tre insieme era l'antidoto l'antidoto devo scappare devo scappare che vuoi aiuto no che vuoi che vuoi che vuoi il bambino è polizia aiuto aiuto ne voglio medicina mi sa che vado via di qua mi sa che ho sbagliato qualcosa sapevo io che devo fare dovevo fare lo spazzino un lavoro un po' più semplice no devi curarmi devi curarmi devi curarti devi curarmi sennò ti prendo la cura la cura così questa paziente miglia pausa qui è que paura che pagan mi hai causato mi hai causato qui è ma se vuoi salvarmi fallo sennò continuerò così ora le do l'opzione farmaco a b e c insieme servirà sicuro questa è una super bomba buongiorno cosa è successo come ti senti e febbre sempre fresca sei bene come ti chiami margherita ti ricordi qualcosa tutto posto hai visto che le cure guarda hai avuto un piccolo attacco ma piccolo è giusto una cosa così niente di che era una cosa leggera proprio ti alzavi a malapena del letto per cui era così cos'è non è che è un sogno questo qui che secondo te che cosa ti senti bene no cosa mi sta perché fai quella faccina lì che c'è non sono mica cambiata ma che boccina reale avevi svegliato medicina come ti ho dato questa questa la bomba del no no le avevo dato in una sequenza diversa è fatcina è fatcina no no aiuta 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 io ti ho Winston io ti ho Di films che fu tutti Dude tranquillissi ン Grazie.